Sono stata operata alcuni anni fa per un tumore al seno, da quel momento ho sofferto di dolori lancinanti alle mani e ai piedi. Adesso, dopo aver parlato con il mio medico, posso tornare al lavoro e soprattutto a correre. Il dolore non è una terapia, ma esiste una terapia del dolore. Scopri di più su www.indolore.org